E' stato presentato martedì a Bari il piano strategico del turismo regionale dal presidente Michele Emiliano e dall'assessore alla cultura Loredana Capone, con l'intenzione di mettere in evidenza e preparare operatori qualificati nel settore turismo. Fino a poco tempo fa c'era stata molta in improvvisazione. La formazione sarà guidata da Giuliano Volpe, ex rettore dell'Università di Foggia, il quale, in una dichiarazione rilasciata agli organi di informazione, ha detto che è uno strumento necessario per passare da una fase di improvvisazione a quella di pianificazione. Il settore turistico è il massimo sviluppo per la regione che ha conosciuto un incremento importante in contro alla tendenza. Non può bastare soltanto l'immagine positiva che la regione ha se non si traduce in un'esperienza positiva che induca il turista a ritornare e a parlarne bene.